Eccola! Ma che ha fatto? Ha aumentato le sculture stasera. Io vedo che sono aumentate le sculture lì. Mi sbaglio? Sono in buona compagnia. Eh, mappa, quanti ne ha fatti? Mezzo al Bosco dei Crocifissi. Eh, infatti, provo il Bosco. Il Bosco dei Crocifissi. Bosco dei Crocifissi. Ma ne ha scalpite molte in questo periodo? Questi qui, tutti quanti. Perché ci sono delle signore molto devote, anche signori, ma che mi chiedono, può dare sto Fimen Christ? Allora glielo faccio e glielo regalo perché solo Giuda ha venduto Gesù Cristo. Quindi non voglio mettermi a suo livello. Certo, va bene. Senta, Mauro, c'ha una piccola macchietta sul naso. Glielo dico così adesso che andiamo in pubblicità se la può togliere. No, no, no. Che cos'è? Ah, una ferita. Calma, calma. Una ferita. Questa qui è una ferita. Non faccia finta di niente. Me l'ha fatta lei stanotte. Ma che lei stanotte? Ma chi l'ha vista? È lei che è andata a scalare. Me l'ha fatta lei. Non riuscivo neanche a recuperarla al telefono. Pubblicità ne parliamo dopo. Eh, parliamo pure. Allora, eccoci tornati in studio. Andiamo subito a Erto con Mauro Corona. Mauro, allora che si è fatto qua? Ma che ha fatto? Ha scivolato da qualche parte? Si è graffiato con uno di quei crocifissi. Bianchina, non faccia finta di non sapere. Ma ha graffiato... No, perché ce l'ha proprio qui che rischiano di farle una ferita sul naso. Ha visto? No, no. Se li ha appiccicati un po' troppo. Non cerchi di cavarsela. No, dico, se li ha appiccicati un po' troppo con i crocifissi. Li distanzi un pochino. Ma per farli vedere alla gente, no? Capito, me li vediamo. Ce n'ha uno con la mano che le sta proprio sul naso. Ma quindi che è successo? No, qui mi ha graffiato lei. Sì, vabbè. L'avrà graffiata qualcuna di quelle fanciulle che lei frequenta? Io certamente non l'ho graffiata. Ma no, a parte gli scherzi. Ma quando l'è successo? Mentre scalava? Ha incontrato un robo? L'altro giorno con Ferruccio. Ah sì? Con Ferruccio. Beh, abbiamo fatto una via dove era quasi impossibile passare senza ferirci. Per poi andare a guadagnare la roccia. Quindi, insomma, succede. Entra il mestiere, dicono qui. Certo. Allora, voglio subito far vedere una foto che ha postato sui social in questi giorni. E mi avete inviato anche dei video. Sembravate davvero molto contenti. Con lei, Oscar Farinetti e Edoardo Bennato. Che avete fatto e come mai eravate a Erto? Allora, io avevo il mito di Edoardo Bennato. Perché, insomma, chi non conosce Edoardo Bennato non conosce Meraviglia come chi non conosce Siviglia. E poi ho scoperto che tramite Farinetti voleva venire a trovarmi. Ed è stata una cosa per me inaspettata assolutamente. E mi trovo con Bennato e Farinetti. Sì, perché è gente quella lì che ha raggiunto livelli di notorietà. Quindi venire a trovare un poveraccio come me è stato per me un grande onore. Adesso è venuto anche Omar Pedrini, è venuto Piero Pelù. Adesso, ma chissà se capita, aspetterei Vasco Rossi. Ebbè, quello proprio sarebbe l'apoteosi, no? No, ma quello potrei andare anch'io a trovarlo, ma è talmente circondato e protetto. Eh, potrebbe venire pure da noi a trovarci, però. Fare questo sacrificio per il 21 giugno, momento in cui terminiamo la trasmissione. Lei quest'anno, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, poteva dire, per solidarietà, io vado dalla Bianchina a Roma. Invece se ne è ben guardato. Sì, ma no, non stai più re, può darsi che arrivi. Ma volevo capire che vantaggio ha la trasmissione se io vengo a Roma. Allora, prima di dire, vuole spiegare che se io domani chiedo al nostro pubblico voi volete che Mauro venga a Roma e riceviamo tutti sì? Io domani lo faccio. Domani posto sui nostri social. Va bene, lo fa. Mauro deve venire a Roma per il 21, però se poi dicono sì, lei è costretto a venire, eh, vediamo se, diciamo, se prende l'impegno. Vengo giù col treno, con le frecce d'Italia. Eh? Sì, vengo giù con le frecce d'Italia, con le frecce, come si chiama lì? Trenitalia. Le tricolore. Vengo giù, tre ore sono lì. Ma non c'è bisogno, prendi un treno o prendi un aereo, non è che deve arrivare con la scorta, capito? No, l'aereo... La vengo a prendere io, dai, la vengo a prendere io, che ho capito che la devo venire a prendere. Allora vengo... Eh? Allora vengo giù stanotte, venga su stanotte, venga su stanotte a prendermi, che viaggiamo... Io stanotte vengo a Erto. Viaggiamo riva. a prenderla. Senta, caro il mio Mauro Corona, ho letto, tra l'altro, che sul ghiacciaio del Gran Paradiso, quindi non proprio vicino a dove siete voi, mancano due metri di neve, il numero più alto registrato negli ultimi vent'anni. Ci dobbiamo preoccupare seriamente? È legato al surriscaldamento del pianeta oppure no? Ma no, no. Ci dobbiamo preoccupare molto seriamente. È ovvio che noi di una certa età non vedremo lo sfacelo che io ho 72 anni, non vedo, non vedrò la fine. È chiaro che causa il surriscaldamento e Mercalli, che sono amico, ve lo dirà ancora meglio dopo, e surriscaldamento. Io mi ricordo l'anno scorso che fui sull'Adamello con Lino Zani che per anni ha fatto la guida del Papa Voitila e lì per preservare gli ultimi lembi di ghiacciaio stendono chilometri di telo, chilometri quadrati di un telo speciale che protegge da raggiungere solo questi ultimi lembi di ghiacciaio. La marmolada si è ritirata, io mi ricordo da giovane, veniva giù con gli sifin sulla strada, adesso è un chilometro in su, c'è troppo caldo e il ghiaccio è come il cuore, vicino al calore dell'amore, si scioglie. Quindi ci pensi bene Bianchino. E' un amore poetico che ha fatto, romantico. Non ste ride, non ste ride. La verità, sto facendo un complimento, mica rido. Ma lei è più preoccupato da quello che sta succedendo rispetto alle nostre montagne, rispetto al nostro pianeta, all'inquinamento che sembra non avere fine, anzi peggiorare proprio con la guerra in Ucraina o all'aumento incontrollato dei prezzi che rischia da qui a settembre a far ritrovare tantissime persone le più deboli davvero in povertà. Bianchina, io sono come i giudici, mi attengo ai fatti e quindi non mi preoccupo tanto del surriscaldamento del pianeta e quindi lo scioglimento dei ghiacciai, i quali faranno alimentare di un metro i mari e invaderanno Venezia, le città marine, quelle le cui acque del mare lambiscono i piedi. Mi preoccupa invece, e sto anche notando qui attorno che è un baluardo di resistenza sulle montagne, mi preoccupa la mancanza di cibo, perché se non cominciamo a capire che tutto questo esaurirà i magazzini, i quali non potranno fornire i negozi, i supermercati, gli ipermercati e quindi ci sarà una corsa al cibo, alle robe da mangiare e questo mi preoccupa molto perché quando uno fa la guerra per denaro, per possesso di territori, di pozzi di petrolio, la fa come stiamo vedendo adesso Russia e Ukraine, ma quando subentra la fame allora qualsiasi inerme diventa un guerriero, è molto pericoloso, quando prendi per fame la gente si ribella, io temo quest'autunno non una rivolta per fame, ci mancherebbe, ma un pericolo latente, un pericolo imminente di una corsa al cibo e chi è più veloce ce l'ha di più, perché in questo caso vengono sconfitti anche i ricchi, perché pur avendo miliardi se non c'hai la farina e non te la danno, non la trovi, a meno che non la si paghi quelli che possono, quindi io temo una deriva semi violenta per il cibo. Speriamo di no, speriamo che non ci si arrivi, però certo il rischio, soprattutto con questa crescita incontrollata di cui parte, dobbiamo dirlo, è legata proprio alla speculazione dei prezzi di genere alimentari primari, come il pane, la pasta e il latte, perché non si capisce perché deve crescere il latte e nessuno mette controlli. Il pretesto è la guerra, sono dei bastardi e lo sottoscrivo perché approfittano con la scusa della guerra di aumentare gas, benzina, gasolio, petrolio, candele, pane, latte, farina perché è logico che se aumenti il gasolio il camionista non porta aerto le derrate alimentari, a meno che sono degli schifosi opportunisti traditori vigliachi. Ecco, Mauro, vorrei prima di far entrare Iva Zenichi però commentare con lei due storie che ci hanno davvero particolarmente colpito, perché sono due mamme che hanno perso i loro figli molto giovani, la prima si chiama Susanna, qui è con Gianluca che è scomparso a gennaio perché era affetto da un sarcoma, da un tumore, qualche giorno fa a Chioggia le hanno rubato dalla borsa il telefonino di suo figlio, con dentro tutte le foto, le chat, i ricordi di una vita insieme e lei sta pregando, il ladro dice che nella borsa non c'era niente, c'erano 30 euro, ma voi non sapete che cosa significa per me quel furto, vogliamo fare anche noi un appello perché gli possa essere restituito questo ricordo così importante di una mamma che perde un figlio così giovane, per una mamma che perde un figlio così giovane, Gianluca si chiama lui, si chiamava. Sto per dire qualcosa che ci sentirà quella dei 26 ascoltatori che abbiamo, caro ladro, caro ladro, ti prego, assieme a tutti gli italiani ti preghiamo di restituire questo telefonino alla mamma di Gianluca. Se lì c'erano solo 30 euro, io di fronte l'Italia che ci ascolta te ne do 5 mila, vieni a prenderteli qui e ti assicuro che non ti farò nulla, ti do 5 mila euro se tu ridai quel telefonino alla mamma di Gianluca. Non ti devi mettere una mano sulla coscienza perché non ti chiedo, caro ladro, di metterti una mano sulla coscienza perché non ce l'hai e quindi la mano ti attraverserebbe il corpo e ti esce dalla schiena, però ti giuro che ti do 5 mila euro e in qualche modo fatti vivo te li farò avere anche l'incognita. Ma ridai quel telefonino alla mamma di Gianluca, ti prego. Ecco, speriamo davvero che si faccia vivo questo ladro, ma ancora più sconcertante è la storia di Sabrina con sua figlia Eleonora, scomparsa anche lei per un tumore 4 anni fa, a soli 12 anni. Ebbene, questa mamma ha chiesto, pensate, per due anni, sta chiedendo insistentemente alla scuola di poter avere l'ultimo tema che è stato scritto dalla sua ragazza che riguardava tra l'altro una sua compagna di classe. Ebbene, ancora non è riuscito a ottenerlo. Scriveva email, pensate, e non otteneva risposta. Ma com'è possibile che una scuola si comporti in questo modo? Adesso, siccome naturalmente hanno cominciato, questa storia ha cominciato ad avere una risonanza mediatica, potrà entrare in possesso dell'ultimo tema che è stato scritto dalla sua figlia, perché prima dicevano che no, doveva fare tutta una serie di trafile burocratiche per ottenere, insomma, il ricordo più bello è l'ultimo che la madre vorrà stringere, diciamo, in sorno, stringere e leggere continuamente. Questa, prettamente italiana e l'infame, miserabile, vigliacca burocrazia degli zelanti funzionari. Ci sarà un preside, una preside, un direttore di questa scuola. Prima del nostro dolore bisogna aver rispetto del dolore altrui. In questo caso non c'è stato rispetto, perché costa poco andare lì e portarli, questo è l'ultimo lavoro di sua figlia. Ma dove sono gli animi, dove sono le anime, i cuori della gente, di questi zelanti burocrati? Ridategli il tema, se no vengo a prenderlo io e glielo porto di persona. E vergognatevi. Se no lo andiamo a prendere insieme. Invece c'è questo video su TikTok, me lo fate vedere? che anche questo ha fatto discutere. Perché c'è un bambino di cinque anni che guida un motoscafo, eccolo qui, dietro il padre che lo istiga ad andare sempre più veloce. Ma è veramente scriteriato questo genitore, no? A mettere in mano un bambino di cinque anni un motoscafo e poi a dirgli corri, corri, corri. Ovviamente non sta a me, però questa è la cartina al tornasole delle famiglie dove si deve vincere, dove si deve correre di più. Questo bambino qui, questo figlio, riceverà l'impronta perché i bambini sono come neve fresca e su quella neve fresca, se tu non fai impronte buone, vanno fuori pista, vanno perché di qua c'è il baratro e di là c'è l'altro baratro. Quindi tracce buone. Questo bambino qui crescerà convinto che deve correre di più degli altri. Se si mette a bere, berrà di più, correrà di più. Se vorrà provare paradisi artificiali. Questo incitamento, ma d'altronde non è mica cosa nuova che i genitori picchiano gli arbitri su squadre di calcio di bambini. Il mio grande amico e grandioso calciatore Ezio Vendrame, che veniva a trovare mio papà, li portava le sigarette, allenava una squadretta di bambini lì dalle parti di Gorizia, di Casarsa, mi scusi. E alla fine venne su e mi dice, ho mollato tutto perché prima bisogna allenare i genitori all'educazione, alle buone maniere, alla tolleranza. E questo è il discorso. Quello lì li incitava. Io non lo so perché quando eravamo giovani noi non esistevano questi episodi, ma mi hanno raccontato di genitori pronti a entrare in campo e a menare, non so, arbitri, allenatori perché i figli perdivano la partita. È una cosa che al di là di bene del male. No, ma ha un suo fondamento psicologico se non psichiatrico questa cosa qui. I vuoti dei genitori, che io potrei chiamare benissimo fallimenti dei genitori, non sono stati accettati, non sono stati rimossi e quindi io uso mio figlio come arma che mi riscatti, che tu devi essere migliore. Aiutiamoli invece a capire, a studiare, a fare cose. In quelle risse che succedono in giro, quella tra giovani ragazzini, 13-15 anni, è la famiglia che manca. Smettiamola di dire che è la scuola. Quando arrivano alla scuola sono già storti. Sì, però la scuola può dare il suo valido contributo. No, guardi, Bianchina, in montagna, quando un albero cresceva storto, un alberello, che è facile che cresca storto, gli mettevano un palo accanto, un paletto, che a sua volta fu un altro albero e lo fasciavano con una garza, non col fil di ferro, ma con la dolcezza, non con la violenza. Dopo un anno l'alberino cresceva dritto, ma ci vuole l'appoggio buono, sennò si spiega sempre di più. Certo. Allora, stasera le abbiamo fatto una sorpresa, perché adesso, siccome ci mancano solo tre puntate alla fine di Carta Bianca di quest'anno, noi per tre puntate, una, due, tre, sempre una sorpresa, le faremo trovare. E stasera torna con noi Iva Zenicchi. Ciao, Iva, ciao, buonasera, buonasera, ciao, Bianca. Sei troppo scolgorante. Grazie, grazie. Il nero e il rosa, comoda di puro, tu ormai lo conosci, lo studio? Devo dire, devo dire, signora Bianchina, devo dire che questa sera io sono qua per il signor Corona. Sì? Sì. Ma mi devo offendere? No, non ti devi offendere, perché è così saggio, è così profondo, diciamo saggio, in modo semplice, che la gente capisce. Buonasera, signor Corona. Grazie, Iva, grazie. Io trovo che stasera Iva sia proprio di particolare bellezza. Che dice a lei? Amore, no. Sì. Come sto, signor Corona? Io sono un bel brutto. Vabbè, vabbè. Sto benissimo, sto benissimo. No, no. Lei sì, ma Iva non sta particolarmente bene stasera? Come mi trova, signor Corona? Ma una meraviglia, una meraviglia, quasi quasi Bianchina, le metto le corna, le metto le corna con Iva. No, 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 non le conviene. Guardi che se me le mette con Iva io sono d'accordo. Io invece vorrei esprimere un desiderio per il prossimo anno, se avrai la bontà di invitare. Ascolti Iva. Io voglio andare a casa di Corona. No, non è che io avrò la bontà, io ti vorrei qui almeno una volta al mese. Due. Ma io voglio andare a casa sua. Allora, il prossimo anno, io e Iva, mano nella mano, andremo a casa di Corona. Vero Iva? Perché è l'unico modo perché ci posso andare anch'io. Dai, andiamoci. Sì, ti difendo io perché lui è birichino. Non lo sa randarci da sola. Va bene, ok. Ascolti Iva. Sì. Ascolti Iva. Voglio darle un consiglio, una raccomandazione. Stia attenta che Bianchina è gelosa perché la grafia. Guardi cosa mi ha fatto qua stanotte. Ma lei se la scorda proprio? Che gelosa. Ma di chi? Di me non può essere gelosa. Io sono come la sua mamma. Non è gelosa. Ma no, ma neanche di altre. Sia tranquillo. Questo sentimento non lo provo. A parte io non sono gelosa. Comunque, no, devo dire una cosa che sembra sciocca ma non lo è. In giro, perché io ascolto molto, in giro si dice che il poeta, lo scrittore, il maestro Corona è un po' innamorato di te, Bianchina. Allora vede? Si dice, eh? Io non so se è vero. No, no. È vero? No, no. Si dice il contrario invece. Ma dove? Io non ho mai sentito il contrario. Guardi che dicono tutti che lei, che insomma... Eh, ma io l'ho sentito. ...mi piacerebbe. Beh, insomma, hai un po' ragione. Che mi piacerebbe, sì. Anche di te dicono, eh, che hai una simpatia feroce verso... Anche di te dicono che hai una grande simpatia. Va bene. Va bene, andiamo avanti. Allora, intanto però vi devo fare una domanda anche insomma un po' sulle questioni che purtroppo continuano a riguardare tutti, ma soprattutto gli ucraini. Vedete uno sbocco a questa guerra? Guarda, questa guerra è all'inizio la tragedia, sai qual è? Che purtroppo, ed è brutto quello che sto per dire, la gente si sta abituando a questa guerra. Perché si sentono troppe cose, si dicono e disdicono, è diventata una specie di, non lo so, di scherma. E non deve essere così, è orribile. Non è un gioco, non è una partita di calcio, è una guerra. Muoiono. Però è stato, non lo so il perché, la gente stufa, è stanca. Secondo te si sta... Abituando alla guerra, non bisogna abituarsi alla guerra. E si interessano quindi anche a quello che succede? No, assolutamente. Io penso sempre, e poi il mio pensiero non vale nulla, ma penso sempre che un paese è stato aggredito da un altro, e poi le ragioni, adesso vengo a me, non me ne inferiore niente dalle ragioni, però un paese ha aggredito un altro paese. Poi ci possono essere tutte le ragioni che vuoi. I morti sono morti, se è vero, perché qui non si capisce più nulla, è vero che sono morti bambini, donne, vecchi, hanno bombardato le città. Beh, se è vero, questo è osceno, è osceno, davvero. E vi dovrebbe fare in modo, senza offendere il signore lì, questo signor Putin, no? Senza magari arrivare all'offesa perché non si ottiene nulla, ma con le buone maniere, magari con la diplomazia, come si è detto. E poi è una parola che fa scandalo, sai qual è? Parlare d'amore. Corona, qui d'amore non ne parla più nessuno. E l'amore è una forza, una potenza che può smuovere veramente le montagne. Che smuova Putin la vedo complicata, però... Andare a parlare d'amore con Putin? Francamente che si possa andare a parlare d'amore con lui per smuoverlo, diciamo, sull'occupazione dell'Ucraina, la vedo difficile. La cosa che mi fa rabbia, queste giornalistine, queste che sono bellocce, che vengono alle nostre televisioni e dicono delle cose orribili. Ecco, io quelli le farei tacere. Ma quali giornalisti? Ma non ti so di rinomi, giornalisti russe che vengono, che vengono intervistate. Ah, quelle che vengono intervistate nelle trasmissioni? Sì, sì, che dicono delle cose orribili. Quelle non le chiameresti. Che non è la guerra, ma che è una... Vabbè, lasciamo le solite cose. E dicono che l'operazione militare è speciale, che non sono stati rispettati i fatti di Minsk. Ok, vabbè. Ecco, e lei invece Corona come la vede appunto questo conflitto? Pensa che potrà durare ancora, non dico mesi, ma addirittura anni? Sì, può durare parecchio, perché si sta incranendo sempre di più, anche per via di altre nazioni che pensano di far bene a dire una cosa, dare le armi, a non dare le armi. L'America che interviene Biden lì, che mi sembra piuttosto addormentato, lo dico chiaro. Cammina come un robot, mi sembra che dorma. Comunque, lui che stuzzica Putin. Quindi questa guerra durerà parecchio, però io so che dietro l'angolo, dietro la curva di un arice, ci sarà un colpo di sorpresa che metterà tutti d'accordo e si arriverà a delle trattative. Ma ancora sta dietro il larice questo avvenimento, perché è solo l'esplosione immediata di un caso che farà trattare le due parti, altrimenti si andrà avanti. D'altronde anch'io se fossi aggredito non mi arrendo, mi difendo, ma non mi arrendo. E certo, soprattutto dopo quello che è successo, comunque sai, distrutto i città, ci sono stati morti, ci sono state devastazioni. Quindi è giusto continuare a... È quello che non sappiamo. È giusto continuare comunque a fornire armi alla resistenza ucraina. È giusto continuare a dare armi alla resistenza ucraina. Guardi, ho sentito mille voci su questo campo, anche esponenti della sinistra non bisogna dare. Io gli do anche i miei fucili, perché io ho questa idea e questa è un'idea mia e ho ancora la possibilità di esprimerla in questa Italia. Quindi non solo, io gli darei anche i miei fucili in barba a tutti questi zelanti sapientoni che non bisogna dare, bisogna dare, bisogna non... Tutti col culo sulla poltrona sanno fare finire la guerra, almeno dategli poltrone scomode quando vengono in televisione. Guardi, più scomode delle nostre è difficile, lei siccome non ci viene da molto tempo non lo sa. Iva, quanto sono scomode le nostre? No, abbastanza, devo dire. No, no, ti fanno stare però non c'è. Appunto. Allora, Iva, lei ha scritto un libro che sta avendo un grande successo e che sta presentandola per tutto, infatti se ne va sempre in giro da una parte all'altra. Sì, mi dispiace dirlo davanti. Lui nelle zone limitrofe, perché non è che scavalla diciamo le sue zone, però invece Iva ha scritto un romanzo che si chiama, che da qui non lo riesco a vedere. Un altro giorno verrà. Ma era la prima volta che scrivi un romanzo? No, ne ho scritto un altro, questo è il secondo, è una saga familiare, no, parlarne davanti allo scrittore Corona mi imbarazza un po'. Perché? Eh beh, sai, lui è un grande scrittore, io l'ho scritto con grande amore, con semplicità se vuoi, e io dico che è il figlio del Covid, perché quando ero ricoverata all'ospedale questi personaggi che sono di fantasia, ma fatalmente quando scrivi, scrivi di te, delle cose che conosci, dei luoghi dove sei nata, per cui parte dal, tutto il secolo, perché parte dal capostipite che fa il pastore su questo appennino toschemigliano e finiamo col pronipote che vede lo sfavillio dei New York, dei grandi grattacieli, ci sono storie d'amore, ma, oh, lo descrivo anche molto bene, eh, eh, beh, sì. Ah che? Eh, beh, oh, Corona l'editore mi ha detto. Me lo mandi? Iva, puoi censurarti, leggermi? No, dico l'amore è amore, se io devo scrivere la prima volta che due ragazzi innamoratissimi fanno l'amore, io la memoria ce l'ho buona, me lo ricordo e descrivo com'è, ho fatto bene, ho per batto. Ah, capirai, lo chiedi a Corona, ma lo dice leggimeli subito, hai sentito come ha detto subito, me li mandi, eh? Ha fatto bene Mauro? Ho fatto bene. No, ma, sono, sarei molto curioso, ma davvero perché Iva ha percorso una storia della sua terra e quindi ha dei ricordi, ha delle memorie. Iosef Broski, premio Nobel di letteratura, disse, visto che parliamo d'amore, disse se c'è qualcosa che può sostituire l'amore questa è solo la memoria. Quindi non è una geografia di se stessi, è fare un documento di quello che non c'è più. Quindi un libro, e sono curioso di leggere quello della Zanicki, deve essere anche una scheda tecnica, perché se Iva Zanicki descrive 40 anni fa come si faceva il pane o come si andava a prenderlo, questa è una cultura che ormai sta scomparendo. Grazie. Quindi mi piacerebbe, anzi, glielo presento a carta bianca a martedì. No, io non voglio che lei spenda una lira, io glielo mando, glielo spedisco. Non viene a carta bianca, non viene, come fa a prenderla a carta bianca? No, sa cosa descrivo con amore perché l'ho sentito parlare? Eh, cittina bianchina, non più re. Vieni, faccio trovare una pila così di libri di Iva Zanicki. Eh, venga, venga. Tutti autografati, Aida. Se lei viene all'ultima puntata di Bianca, che non so quando sarà. Anche la penultima, può venire anche la penultima. Posso tornare? 14 o 21, questa è la sua scelta. Viene? Corona. Ma dai, venga giù. Certo. Ah, allora vengo anch'io. Guardi che certo potete venire, eh. Chi va a Roma... ...perde la poltrona. ...dicono i vecchi, chi va a Roma perde la poltrona. Non la tocca nessuno. Sì, è vero. Ma comunque, Iva, tu parli di transumanza. Monterò sul suo divano. Parto con questo capo stile d'artiglio e descrivo... No, siccome Mauro la faceva la transumanza. Eh certo, descrivo la transumanza. Allora lui saprà quanto sia faticoso, doloroso, ma anche gioioso. Perché poi loro dall'Appennino Toschemigliano andavano in Maremma, Cecina, e lo facevano allora a piedi con il greggio e 500 pecore. E si fermavano tutti gli anni dagli stessi contadini. Ed era una gran fatica perché fungevano le pecore a mano, dovevano tosarle. Ma era anche una grande gioia. La sera si ritrovavano i canti, i balli. Poi arrivavano a destinazione. E lì c'è una storia molto carina, ma molto vera perché l'ho sentita raccontare. Anche se è un libro di fantasia, ma va da sé che vai a pescare nelle cose che conosci. Gli lo mando, eh, Corona! Lei lo deve leggere perché poi io l'interrogo. Magari. Soprattutto nelle parti d'amore. Ah! Capirai, quella se l'impara a memoria. Ma scusi, Corona, io voglio chiedere... Ma tu le hai mai fatto una pazzia per amore, eh, Eva? Eh beh, sì, qualcosetto ho fatto. Corona, lei l'ha fatta qualche pazzia per amore? Ma la pazzia per amore ne ho fatta una solo, una sbornia unica, mi avvilivo, andavo a bere. E' una pazzia per amore una sbornia unica. Questa è stata la pazzia. Che razza di pazzia è? No, ne ho fatta... Ne ho fatta una, anche qualcuna in più, ma è meglio che la metta. Forse l'ho anche scritta una, ma beh. Volevo dire a Iva che io purtroppo ho un modo di leggere che la frase è bella, me la sottolineo, rimando sotto, se c'è qualche ripetizione me la segno. Quindi è una lettura dolorosa ma piacevole la mia. E piego le orecchie e quando ho finito il libro diventa alto il doppio. Quindi Iva Zanichi può interrogarmi dove e a che pagina vuole quando l'ho letto. Grazie, domani glielo spedisco, mi dai l'indirizzo di Corone. Come facevamo da bambini, anch'io piegavo le orecchie quando ero bambina e leggevo i libri. Così per sottolineare alcune cose. A lei me le tiravano le orecchie. Ma che... No, no. Te le tiravano le orecchie. Guardi che secondo me... Io ero molto più buona di lei, eh. Questo non ne dubito. Io ci credo. Ero più tranquilla di lei. Mi piace una bambina molto dolce, tu. Ma insomma, comunque era abbastanza... Mi piace intelligente, però dolce. Sai, con la prima figlia caricata di responsabilità di tutti i fratelli. Va bene, andiamo avanti. Invece, ecco, volevo solo chiederle questo, Mauro. Poi dobbiamo parlare. Ma lei quando ha scoperto di essere diventato uno scrittore così apprezzato e anche così comprato. Perché insomma, questi libri vendono molto. La mia avventura... Eh? Eh, ma non vuol dire che un libro sia bello, eh. Se vende molto. Comunque se lo comprano, che... E non sto... Ma no. La mia avventura... Beh, un libro... Io lo dico sempre quando vado a presentarlo. Non leggetelo, ma compratelo. Eh. Quindi la gente rimane anche male. Allora... Eh, certo. La mia avventura letteraria è nata per... Ma per casissimo, non per caso. Eh. Diceva il grande Borges al suo maestro Macedonio, disse Ritengo me stesso essenzialmente come lettore. Mi è accaduto, sì, di avventurarmi a scrivere, diceva Borges. Ma ritengo che quello che ho letto sia molto più importante di quello che ho scritto. Quindi io avevo questi figli piccoli, 9, 10, 11 anni, adesso sono laureati, hanno 40. Uno anzi è qui dietro il set, Matteo. E leggevo questi raccontini affinché capissero che il papà l'aveva avuta dura, senza genitori, senza mangiare, andare a lemosina, botte da orbi. E quindi non serviva che il tonno si dovesse tagliare con un grissino. Quella è stata una pubblicità infame. Perché se hai fame, infame, non è che se non lo tagli col grissino lo lasci lì. E quindi leggevo queste storie per far capire loro che era stata fatica. Poi un giorno, ma per caso, ma tutte le cose capitano per caso, venne qui un giornalista mio amico che si chiama Maurizio Bait, il quale non lo sento da tempo, ma lo voglio ringraziare molto, e seppe di questi raccontini e me li chiese, mi fece una prima sommaria correzione, e poi uscirono con una casa editrice di Torino, la Vivalda, che si occupava di libri di montagna, e questo libricino, che forse è il più pulito, nel senso che lì ero ancora puro, poi si è diventato furbastro, però, come disse Chekhov, non vi è una sola riga di cui mi debba vergognare, Chekhov. E nasce questo primo libro, Il volo della martora, che ebbe una fortuna forse esagerata, e da lì mi chiamò la Mondadori, nella persona di Ferruccio Parazzoli, eccellentissimo scrittore, che non ha avuto il merito che doveva, e quindi mi disse se volevo correre con la scuderia, ma pensavo mi mettesse in giro, e allora lo insultai e misi giù il telefono, quello a cornetta, e invece mi richiamò, allora che se lei dice, ma lo misi alla prova, se non dice balle, domani venga qui, e l'indomani era qui la mattina, ed è nato tutto lì, insomma. Nata così, per di cosa è? Però il mio lavoro è la scultura, se dovessi scegliere, prendo la scultura. Lei sceglierebbe la scultura, e l'arrampicata, giusto? Assolutamente. Ecco, cambiamo argomento. L'arrampicata, sì, perché... Dove si è fatto a Feritino. Erika. No, volevo parlare di un'altra questione, l'avete seguito il giubileo che c'è stato per la regina Elisabetta qualche giorno fa? Sì, qualcosa sì, ho seguito. Eh, ma avete visto, insomma, quanto è amata, quanto è stata omaggiata? È effettivamente amata, sì. Beh, ma è d'altro caso. È legato proprio Elisabetta per come ha governato in questi 70 anni, per il ruolo che ha ricoperto, o è proprio la famiglia reale, che è ancora profondamente nel cuore dei suoi sogni? Io credo che, visto che la regina Elisabetta è lì da sempre, perché ha 96 anni, lei è rassicurante. La vedi, no? È come bere al mattino il caffè latte. Vabbè, è un esempio in sciocco. Ma lei è proprio una figura, così, rassicurante. E poi è carina, e poi è buffa a volte, e poi veste in modo... È elegantissima, eh? Perché solo lei si può permetter certi colori. Soprattutto in quest'ultimo giubileo era veramente elegantissima. Sì, ma sempre, da sempre. E poi si è sempre comportata bene. Ha recuperato anche, ti ricordi il funerale di Lady Diana? Sì, quello... Lei ha fatto un gesto che la regina non si inchina mai a nessuno. E quando passò il feritro con Lady Diana, lei abbassò la testa. Quel gesto lì l'ha fatta amare anche quello da tutto il mondo, che sembra una sciocchezza. Ma, insomma, la regina, vedi che poverina, a cent'anni, lei non può farsi toccare da nessuno? Sì. Spero da suo marito sì. No, nel senso che... Però lei... Solo il bastone. Nessuno la può sfidare. Ora è morto. Anche perché è morto il marito. Ma comunque... No, vabbè. Anche prima mi sembrava difficile. Anche prima si potrebbe... Vabbè. Senti, invece a lei è piaciuto, Corona, quella cosa? L'ha seguita? Voglio sentire. Guardi, Bianchina, voglio essere sincero, come sempre. Eh. Io ho due giudizi. Che mi... Uno, quello dell'anima, quello dell'umanità, quello del cuore, quello della dolcezza, e vedere sta vecchina, ancora presente, con questo vestitino color ramarro, quel verde ramarro bellissimo, e sapere che ha passato quasi... Ha passato quasi un secolo facendo forse quello che non voleva a volte. Ma, guardi che... se mi dicono che voglio fare il... Ma sapete gli impegni che ha avuto sta donna, impegni planetari, che forse aveva voglia di dormire un po' di più, e questo mi ha fatto tenerezza, e mi ha fatto... Ho provato un grande affetto. Poi c'è la parte ribelle di me, la parte del povero, la parte di quello nato per strada, la parte di quello che andava all'emosina con la nonna, la parte di quello picchiato a sangue. Ecco, allora quando vedo sti sangue blu, mi stanno sulle scatole, perché nasce il principino, tutto il mondo ne parla. Qui ci sono bambini in Bolivia che lavorano a 400 metri a 8 anni, nelle miniere sfruttate, ma allora del principino che gli nasce il figlio, non me ne frega un niente. Ecco, bene, abbiamo precisato. Bene, allora, sapete che... Però la fiaba, hai capito? È la fiaba, certo. Il caro scrittore grande. La fiaba, è la fiaba di Cenerentola, quella che fa sognare le ragazze, quelle che tutte sperano comunque di incontrare il principe, è quella fregatura lì. Anche Kate era una borghese, ma non era certamente una Cenerentola. Sono stati in Congo, ho visto anche io i bambini morire di fame, cose orribili. Però, insomma, la fiaba ogni tanto va anche bene. Ci vuole. Allora, intanto, domenica si andrà a votare per quattro referendum, lo sapete, siamo in par condicio, quindi non si può... Non se ne parla. Anche non se ne è parlato proprio. Però adesso vi voglio far vedere, perché invece, spero che, insomma, in questa settimana, chiunque possa ne occupi, su che cosa andremo a votare e come sono divise le forze politiche. Vediamo. Sono cinque referendum abrogativi sulla giustizia su cui domenica 12 giugno dovranno esprimersi gli italiani. Il primo quesito è sull'abolizione della legge Severino, per la quale chi ha subito una condanna anche in primo grado non può candidarsi alle elezioni e, se già in carica, decade. Il secondo chiede agli elettori se vogliano cancellare la reiterazione del reato dalle motivazioni per cui i giudici possono decidere la carcerazione preventiva. La terza scheda riguarda la separazione delle funzioni. In caso di vittoria del sì, i magistrati dovranno scegliere all'inizio della carriera se assumere il ruolo di colui che giudica o di colui che sostiene la parte accusatoria. Il quarto quesito chiede che non siano soltanto i magistrati a valutare l'operato dei colleghi, ma anche altri esperti come avvocati e docenti universitari. Infine, si chiede se abrogare l'obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per potersi candidare a membri del CSM, l'organo di autogoverno della magistratura. Abbiamo ascoltato le ragioni del sì e quelle del no. Chiediamo a tutti gli elettori italiani di andare a votare e di votare sì. Un quesito importante è quello che riguarda la carcerazione preventiva. Mettere in carcere uno prima che sia stato condannato per qualsiasi cosa deve essere l'eccezione. Oggi diventa una sorta di regola. Un altro quesito riguarda la legge Severino. Bisogna prendere atto che la legge Severino ha avuto degli effetti collaterali molto negativi soprattutto per quel che riguarda gli amministratori locali che possono essere sospesi dall'esercizio anche dopo una causa solo di primo grado poi sono assolti ma il danno è fatto. Uno prevede di separare le carriere o fa il giudice o fa il magistrato e diamo un giudice davvero terzo, davvero indipendente. Un altro quesito riguarda le valutazioni dei magistrati. Anche gli avvocati e i giuristi che stanno nei consigli giudiziari devono potersi esprimere e valutare la professionalità dei magistrati. Un altro referendum è quello sull'elezione dei magistrati nel CSM. Bisogna spezzare la logica delle appartenenze alle correnti. Cinque no per cinque quesiti che non si occupano del problema più grande della giustizia cioè la lentezza dei processi che fa male agli imputati alle parti offese fa male agli imprenditori che vogliono investire in questo processo sembrano cinque quesiti che interessano più la politica una parte della politica c'è un quesito che vuole abrogare la legge Severino che oggi vieta di sedere ai condannati in Parlamento e nei consigli regionali c'è un quesito che vuole cancellare l'articolo 274 lettera C del codice di procedura penale così anche se per una persona arrestata c'è il rischio che possa continuare a commettere lo stesso reato il giudice dovrà liberarlo e questa è musica per le orecchie per i colletti bianchi con i miliardi del PNRR che arriveranno peccato però che questa modifica legislativa varrà anche per i borseggiatori per gli stalkers per gli spacciatori di strada per citare solo tre casi concreti Allora non entriamo nel merito dei quesiti perché sarebbe ci vorrebbe più tempo e anche insomma più competenza di quella che abbiamo noi tre però a votare ci vai domenica? Io vado a votare sempre sempre sono andata mia madre mio padre mi hanno insegnato questo abbiamo questo grande diritto e lo voglio esercitare io vado a votare a votare Mauro Corona? Credo che non andrò prima di tutto perché ci vuole una laurea e non ce l'ho neanche ad onore per capire questi meccanismi di voto questa pappardella di cose figuriamoci le persone anziane se capiscono queste robe seconda seconda cosa che mi blocca un po' poi non è detto ma in questo momento non ci vado e questa e questa ragionare del secondo politico che non ho visto chi era perché non che può darsi che sia anche a favore può darsi la legge Severino io la la legge Severino io la lascerei lì se fai il furbo non vai più a fare politica signore mio ma loro sono contrari a toglierla 5 Stelle non la vogliono togliere no no infatti non si deve togliere perché questi che la propongono sono quelli a rischio dicono se capita anche a me sono tagliato fuori guardate che è sottile la politica è molto sottile ti fa vedere il sole e invece buio o pesco però l'ideale sarebbe andare a votare e poi ognuno può dire sì o può dire no allora mini break scusate abbiamo una brevissima 40 secondi poi torniamo perché devo fare una domanda molto importante invece vediamo va bene bianchina allora prima di chiudere perché poi avremo Michele Santoro e Marco Minniti con cui discuteremo anche delle tante polemiche che sono scoppiate in questi giorni io però vi voglio chiedere questo allora voi non so se avete sentito in questi giorni l'appello disperato di Fabio che ha 46 anni è tetraplegico da 18 ha diritto all'aiuto medico per una morte volontaria tetraplegico vuol dire che muove il suono un occhio e dà un comando al computer attraverso l'occhio però da quasi due mesi attende il parere del comitato etico della ASL marchigiana sul farmaco che deve utilizzare a questo punto ha deciso di procedere con la sedazione profonda che naturalmente è una cosa molto più lunga non si sa in quanto tempo potrà arrivare il passaggio tra il sonno e la morte e quindi anche i suoi familiari sarebbero sottoposti naturalmente a un inter molto più doloroso ma è possibile che in questo paese che soffre da 18 anni bloccato a letto non possa usufruire di un diritto fondamentale come quello al suicidio assistito è un argomento così doloroso così profondo non è facile esprimersi su un argomento del genere io ho provato a stare vicino a persone che amavo tantissimo e dentro di me pregare che questo mio caro che soffriva tanto morisse non lo nascondo proprio desideravo e diceva ma perché non posso far sì che non soffra più perché intanto non capiva più nulla intanto non ragionava più non era più era una specie di ma è difficile prendere una decisione del genere questa però è la sua volontà è la volontà di questo ragazzo questo lui è una decisione che ha preso lui è cosciente vuole sì io vabbè io sono una cattolica sai religiosa per l'amor di Dio questo è contro ma io sono affavorevole affavorevole a questo a questo punto perché se questo ragazzo intelligente soffre da morire non vuole più vivere perché dagli una morte lenta perché lo stanno sedando no? chiesto lui chiesto la sedazione ma insomma aveva avuto il diritto a poter procedere con il suicidio assistito però siccome non c'è la legge non è stata fatta quindi a questo punto tutto è Mauro Corona tutto un iter burocratico particolare che di fatto non lo porterà a poter procedere in quella direzione che lui auspicava guardi Bianchina mi devo trattenere l'ira che mi sbocca fuori dai pori della pelle una nazione che non è solo imbiancata fuori come i sepolcri e dentro c'è il marcio una nazione civile si occupa inizialmente di questa cosa concedendo la morte a chi non è più vivo respira tramite macchine e chi ha detto che non soffra pure che senta male e il problema delle carceri una nazione civile si vede dalle carceri e da queste scelte coraggiose ma siamo governati da un popolo di bigotti bacchettoni e baciapile che hanno paura di tutto del castigo ce l'hanno con i neri ce l'hanno con i gay ma dove andiamo a finire ma chi ti crede più quando non mi proponi queste cose vergognatevi bene allora questo è giusto davvero perché comunque sono stati sollecitati tante volte anche dalla curte è un desiderio suo perché tu non puoi decidere per altri e non l'hanno fatta allora grazie a Mauro Corona quando l'ha deciso lui grazie no due messaggi dai che li dobbiamo coprire però prima tabona bianchina te sunti dai tabona che devo correre stasera volevo ringraziare tre uomini del 1922 per quello che hanno fatto uno era Pasolini uno suo padre e l'altro il mio maestro Augusto Murer benissimo bravo bravo possiamo chiudere benissimo allora grazie mille a Mauro Corona che rivedremo martedì prossimo sempre collegato da Erto grazie a Iva mi fate rivedere il libro di Iva prima di salutarla ci vediamo qui con Corona fate rivedere il tuo libro prima di salutarla eccolo qua Iva Zanicchi un altro giorno verrà un altro giorno verrà edito da Rizzoli grazie mille Iva esci pure da qui quest'altro anno però ti vogliamo sempre ci saremo ci saremo ci saremo ci saremo ci saremo